Facciamo un brano di Alec Reismiller, Sonny Boy Williamson, number two in realtà, perché c'erano due Sonny Boy Williamson, ognuno diceva di essere quello vero e la realtà dei fatti erano, molti non lo sanno, ma erano contemporanei, ma il primo, John Lee, ebbe successo prima di Alec Reismiller, ma Alec Reismiller sicuramente fu uno degli artisti più straordinari di quegli anni, basti pensare che è stato il maestro di Little Walter, Little Walter è stato l'unico a cui Alec Reismiller abbia insegnato a suonare l'armonica, spesso questi armonicisti erano un caratteraccio, però il fatto di vedere questo ragazzino che veniva dalla Louisiana, che era Little Walter, che aveva così tanto desiderio di imparare, alla fine riuscì a commuovere Reismiller che gli insegnò i primi trucchetti con l'armonica, questo è un brano scritto che ha della sua思ane, però mi cartία di Milit eachuso di la puntataltre in merita è un'eserione, è un'eserione è un'eserione I'm going to bring it on home to you Don't bite, chica, I got my load I'm going to turn the whole, whole boat Take my seat and ride away, baby Watch this train move down the track Baby I'm going to bring it on home to you About the good times I once have had So go at me now, I'm glad I sing about where your love needs to Come that life, home to you Come that life, home to you Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.